ok buongiorno abbiamo iniziato buongiorno a tutti c'entra registratata ma ciao a tom ciao edita e ovviamente ciao a sabrina sabrina ti faccio un'induzione veloce conto da 1 a 10 senza traduzione e mentre conto ti connetti a torno 10 9 8 7 te 6 5 quattro 3 e 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 bene sabrina dimmi se lo vedi come sempre lo vedo appena inizi il conteggio che mi aiuta moltissimo lo vedo si saprina che città ma io sotto potente con te lo c'ho trovato che c'è dove e viene una scena buio con del buio e lui da lontano che è un po arrestivo però lo vedevo già dal conteggio un po' come che ci stava osservando un po c'è noi stanno votare vogliamo chiudere qua se vuole non facciamo la sessione è stata messa sia da contesto il tempo c'è adesso sta camminando verso di me però oggi più però sempre un braccio così e uno così come un po' perplesso all'attacco ma che verifica nel modo che più ritieni opportuno magari toccandolo che sia veramente lui tutta la spra c'è da te caglion che c'è fatto c'è allora sì mi sono avvicinata io e a lui però subito quando mi sono avvicinata ho visto due mantidi dietro di lui due ok lui ti dà l'autorizzazione c'è un bai ci posso farla nella stessa si lo fa togliendo questo gesto e tira giù le braccia e mi fa così e si con la destra attacca dai mi posso farla in realtà che sposto che sopportate a terrenza che per me usavo sono i cuovo che fanno giata cosa che cosa fa l'anni ok cambiamo tattica sono molto curioso di sapere quante vite precedenti parallele ha avuto tom non è uscito 2.200 poi abbiamo scelto parte scienze di riesce molte ok alcune in spagna c'è ne che torreste cosa c'è mia mister che spagna allora non so perché quando mi ha detto alcune spagna si già anche mentre prima parlava poi è stato detto però mi sta dicendo una una in turchia mi dice lui questa cosa qua tac che spagna che spagna il servizio tanto come in città negata ma fiaris ma la monta mi muovi sa ieri ma farlo se c'è può torci sì dimmi dimmi mi sto vedendo quello che mi sta facendo vedere il fitto a tazza non mi può cosa che arte ma mancia che cosa ti fa vedere sa ci ha preso che adesso si è è cambiato non è più lui prima lo vedevo con lui con la fisionomia di oggi adesso mi mostra un uomo giovane un ragazzo giovane vestito con un turbante in testa e una tunica tipo la patente che faceva amico per contatta che cofiggi materas al potenzi menu e questo è quello di terrasco vita della comoda cocopa cas urbani e questo inizia chi è stato a lui ton ma è al nell'epoca della vita in turchia si rispettano certi in soft orti che ruolo ha nella società sultano è un artigiano è uno schiavo io corro la mia vota mostrata in stato cominciamo che è un ragazzo giovane ed è il figlio di una sorta si di di famiglia importante e smolta in coppa che mi tac fa che c'è una legatura che c'è parte farla di rogine se nemmeno che questa cosa come che fa senza che sposti poi mi sta mostrando una sacca con dei dei soldi dentro delle monete e poi cosa che mi è come si sa che è che si fa ora che si smoneta mi ok chiediamogli per quale motivo siamo arrivati a questa vita questa vita e per quale motivo ti sta mostrando questa sacca con le monete da 3 a peta e maicolata poco costruito a vostra società lato capo costruite piene a un forte mi dice perché qui ho fatto una bella vita e questa vita mi piace mi è piaciuta stavo bene ovviamente attaccato se poi ne va stammerata buona parte final c'è tanto c'è topso e mi dice vorrei stare così ma vi è stata caccia che si è forte ok cosa c'è invece in spagna c'è una vita in particolare a tasto che spagna un c'è quota ma che si fanno se c'è vedo come la sovrapposizione di più più vide lì in spagna vittata anche il caro cosa c'è appena c'era una quota che c'è quello è il paese in cui ha vissuto più vite di queste 2200 via che un cryo sazona i finti di usate fatte c'è un certo adesso mi dice d'urkia però facciamo già torsia quante il è venuto prima mille poi mille cento mai per poi arriva mi c'è ritrovata e scienza potente santo del giorno a cosa sembra che prova un po fa limiti mi vedevo una cosa strana volevo cercare di spiegarla nel numero e sempre mi compare e mi oscilla mi compare come se non fosse mai ben definito ecco questa la sensazione sono facendo come se ogni mi sta dicendo questo adesso mi sta dicendo come se io adesso sto prendendo una nuova decisione una nuova via e quindi tutto cambia adesso interessa non è un piaccia testa che ha un teresa che potremmo fa una fonte accese che il nuovo paracino fa un troppo riclata con la shesmenia ok c'è un evento io non so se posso dire il mestiere di tom non mi sono ricordato c'è ma sono strage c'è la voda che con noi ok top fa l'auto trasportatore a un camion tir e per ben due volte mentre dorme appunto di notte nella cucciata si è svegliato con la sensazione di essere senza coscienza tommy c'è un sarò scomigli fare la sanata che è presa sulla scena con la sbogge urna zeta che ne ho porto c'è da mostri e questo da meno di un anno il tab ogni età vero che amo viene abduction il cogito prova genia abduction quante sono al mese più o meno e lei e poi mi chiamo insomma di vento e nei 55 più o meno da meno di un anno tom ci ha scoperti e ha iniziato a vedere sessioni le abduction sono rimasti uguali aumentate diminuite tom hot creo nasce a vero che temo sono stati accettare di parte copra fase in silenzio basse cosa stava mi vedete in attenzione poi a me diminuite non erano di più tra tempo avienza e ho provato adesso sono cinque prima erano potrà se spiaggia frattere 8 10 o scendo di senso ok perché si ricorda queste due si era tante scaraboy tag tour la tua curata e pamenta psa pomino sapevate che foca più sota mi sta dicendo come se queste due sono state se le ricorda perché sono state più aggressive più incisive su di lui c'è ancora trattato sia pamenta o panni vastone poeta che nei parchi feracina nei parceria grazia finia maratonia cosa un po tassi la cosa è successo fatta mi cerchiamo utilizzano utilizzano il suo esportazione di spermo stateta popierali atnico nascene in induzioni di pensieri non suoi per arrivare a un a un atto un po particolare una cosa che non mi piace sinceramente il terzo prova di arrivato corre o paventino brasa per favaccio nel corso paventino racti che stiamo mancettata vita nipota panica si può dire non sono potete lo inducono vedo che lo inducono in queste in queste scene a come se facesse un atto sessuale testa in potava sono sessuale chiaramente il materico in a nell'abduction si tra c'è a tax trattate coprovate in appoggio amina tercino va bene queste sembrano cose folli ma sono mai letteratura no si 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 finge un atto sessuale con una bella donna in questo caso che poi in realtà è ricoperta da un ologramma e ma è un alieno aliena quello che al suo già già sta usando a croteo brasa faccio davana che c'è sexo vanna mensa poi si è copiato ma non c'è snorata con protesta hologram ha visto visto è stata opzione rassa tecnoprata ok tom a croni c'è tamma cloni 2 dracone toma figli non chiaramente eterici derivanti da abduction certa ma che si diceci poco zanz però fatene che ci siete reti ma mentre me lo dice io ho visto una stanza fatta di ferro con dei degli scomparti e delle provette con sembra qualcosa di lui dentro che c'è già che avevano una scena gli atti sessuali che hai visto sono reali sono olografici e quindi se sono reali e quindi non è una rappresentazione olografica dell'asportazione dello sperma ma è un atto con l'aspettazione di sperma c'è testa ne è atto sexual netto che c'è stato reali stanno tutto quello che vedo è questo cerco di dirlo nel migliore nei modi possibili vedo come se gli mettono una sorta di scuola scuola passa ovviamente in testa una forma di scuola basta e infilano dei pensieri che comunque lo inducono quindi a eccitarsi e poi la cosa però avviene fisica vite stene da usare una cosa che sull'antenne su questo come nato su a questo che mi ha sforcami ebbe pop sate o sforchi postai amore una grata io mescoli obrase anno sef non già per fascia un tan act al sex one chiama il responsabile ma arriva una sorta di di formica barra mantide gigante con un con un non mi viene la parola mannaggia tipo batman come si chiama il bello esatto il mantello scusami non mi veniva poi arriva sef satana o grana è stata come la janzani tom roof che è ignito motisca rimana sapere chissà che qua come si chiama le accionate fai quando i miei fu lì fu fu lì mi dice fu lì ok chiaro è un pochino a livello di quello che percepisco che mi mi sta proprio confondendo tanto questa questa roba qua cioè perciato time is marriage perché sposo va bene come abbiamo già fatto su questo è un classico delle manti metti le attorno un sarcofago di energia proteggiti alza le tue frequenze e dimmi quando è fatto come decidiamo che misce poi amico in arco a te c'è un po poterci fare le prezzi anche poi tutto troppo allora la ho allontanata si è allontanata un pochino più lontano perché mi stava proprio davanti ho tutto arrivo a mio cerchio bobo a parte abili scommia ok e la vedo più sono più chi ha più chiaro e più sereno interessa la vita di una pista stampare di spa coin tra me sta facendo male un po la testa ok prendi le tue mani energetiche credi quello che non va bene nella testa e toglie tra i miei domani nella cata c'è nemmeno su un tempo ok vedo che questa cosa fa nei movimenti strani con le zampe ma comunque mi sono protetta quindi però cerca sia tipo in fastidi da adesso facciamo sappiamo cronale vita è stata trassa seconda che gifna rucca mi che fallo apparire delle manette che bloccano le due zampette e delle manette anello che bloccano le dita a 2 a 2 totale stavo si è nata di voglia so che c'è lo spacco io sa usavo se i cancari tank ita che piaccia anche una palza ok fatto tra più se ti vuoi divertire mettile un collare difetto di ferro metti le dei blocca a caviglie quello che vuoi e se fosse stato papà recitato molto felicità come saprosa nostri alberi che stanno cost che uno mi ha comparsa questa scena è come se adesso ci troviamo con questa cosa qui che sta con un collare una catena attaccata al muro dentro questa stanza di ferro dove ci stanno tutte queste proiette siamo lì adesso e tutta povera già resta c'è una vita tra stana e tango di giocciano già la snota già la trepa questi mi provoca metà stai stata la data unica modi e scani tamrofka e strastello stanno stanno però non c'è chi c'è piana da stane se non ti da fastidio chiedi a fulli perché prendono sperma da tom fisicamente tutte le aspetta i fondi l'attacco a capirai molto ma se c'è una scena con tutto tutta l'eccitazione con l'accoppiamento eccetera c'è c'è stato tec stand act of sex one mi dice che con questa pratica quello che ne deriva è più forte facendo tutta questa pratica con l'induzione mentale dice questo va muoviamo sotto a un giorno sto in doccia una pace a me mentale mi ha detto che sono state smozzi a una cuscata rosa ok fulli ci stava portando nella zona delle provette dove ci sono i figli di tom fuori di sabra vanas tanto tecco come stanne che sono te propria scena c'è niente a morta ma sono solo provette o ci sono anche dei figli vedo solo provette una cerca propria termine sorrchita che ne amata ma giorni i due cloni si possono considerare già dei figli di tom ha trattato la cronica rifiuta ma c'è cita ma se lo intendiamo che derivano dal suo dna sì sì certo via non stato vacatoria pocata una secote nata come si chiama il progetto relativo a tom chiedemola fulli sapete ma fuori e che non si lascia proiettore molto finito tom mi ha detto subito ferro che so che ferro che faceva mia nata ferro che cosa significa fatto adesso mi sta arrivando mi stanno arrivando questi quest'immagine di questi due cloni che sono metà tipo umani e metà di ferro robotici poi come c'è tra se opera steve for clon of the south come noi danno luce che ha poveri e bacia l'asner per poi robot poi lei mi sta dicendo che loro fanno delle prove provano provano mi dice questo ne provi proviamo scusi movimenta proprio stoni con una grotta del test per una grotta del proprio testo io qualcosa è stata che contesto io a far diventare a fare del degli esseri che sono più robotici nei quali comunque l'anima può può andare in quanto richiamata da al dna oggi un po prosto sforzano e attacchi stati tra i sbargi o due reti ciro botan alla mimo scopo di tam dosa per il suo manesimo trans humanismo se si tom è un buon soggetto un buon esperimento sta dando dei buoni risultati certo ma sono scelta pre effect time dicono sì come fiamm sull'attac scusa mi dice ecco perché le provette mi hanno trovato tra tecate ma non ho capito scusa cioè che intende la mano mesi è che gliel'hanno preso tanto lo conservano potrà riottnico material va bene mi rivolgo a fulli però francamente tom non è più un ragazzino quindi questo progetto sta andando avanti da tanto tempo io vedo solo due cloni e un grande laboratorio che non ha ancora prodotto niente quindi non mi sembra che ci sia un grande successo a lei a totale i video c'è un costo che è sotto tommy da rossa ma non c'è no si è toccato la cronistre coppa mia stagione stemi proprio scami tutta ogni vita che qui si colta un nego successo e adesso mi fa vedere che vedo un'altra stanza cambia dalla scena dove ci sono tutte queste sorti sorta di formini formiche ai ai microscopi che che studiano incrociano questo quello che c'è nelle proiette che non ho ben capito oltre il dna che c'è teresa minima mi c'è stata la vita in pomerci anni e stanno un nostro che scelta un microscopo a chita ma che c'era un po che sta cadena dove siamo in che posto siamo fisico invece da quando ci sono i tuoi ammere che ti è scritto cinemista non è qui non è sembra un posto un posto in un altro un altro mondo un'altra dimensione non è qui cosa che l'ho andata una case mista e che mi scendeva mi asso che mi sceso poi gli anni mi sto non riesco a definirlo lo vedi il posto non so la costellazione mi fece sta camista questa classe galattica che scosta lazia mi sono mi sono alzata adesso vedo questa stanza che è diventata un pallino piccolissimo io mi sono alzata e vedo un tipo una nube rossa gli atalas stavano chietà tampocco i mini uscire malani con col cai vite fatali per conto con un servono ancora non è così importante la volta in cui ha sognato lui dice lucifero che gli ha toccato i genitali sempre lavorando nel riposo che è successo la ministra nesta che farmo i genitali tommiamo e pisot si chiede scontano tra l'altro sarà ma casmava di stato catturato che in italia è stata la scelta che è sempre una d'action similare a queste qua semplicemente la ha avuto una percezione di un qualcosa che stava succedendo non non proprio quello che stava succedendo ma è una d'action tecnica parte nipota con me stessa poco ci vuota un po prosto con la in un prova genio e perché lucifero ad attaccavata non c'è una sua costruzione mentale fuori come il suo posto vabbè perché la sosa qualcosa di negativo poi ne fa scuovere lo che si farà c'è una catterna tutto bene sabrina no succede sapri una natura che c'è mai ok scusa sono un po infastidita mina mi sta dando fastidio molto lasciati questa qui proprio questi qua mi danno fastidio a quanto si è vivendo sia questa riflessio milione e mezzo il milione portano milioni un milione un miliardo miliardo e mezzo scusa portare a miliarda allora entro anche io nella scena e tutte e due insieme magicamente felicemente l'alziamo a 10 miliardi per la star scotta da una tostana e obiettivo e poi e poi lasciano vibrati ad oggi 100 miliard of ok ok scriviamo 10 miliardi su una lavagnetta bianca con il pennarello nero to trasnabiali tablice tornem pisakiem napis ma 10 miliardów adesso cancelliamo l'uno mettiamo il 2 i teraz ma jeden kai stafane a sta mista dvujka 20 20 come vedi fulli mi ha trasferito sfogli piccola così malenica ok ricordati bene questo processo sapone sa che gli atto tra piu as il relativo la scuola tra la terna ok fulli è un insetto fuori a chiede ne ho vada causa esoterica del torace deformato due costole piegate verso il cuore sin da ragazzo progetto è stata racionata formati crat che piersia vai a conto ma ho visto una scena dove lui come se tornando da un abduction cadeva e c'è stata questa questa questo storcimento del del torace c'è una storia frazai on c'è ne cosa provate il proprio sto occupato di tanto provocivo a date formati crat che piersi come se viene buttato buttato giù con un po cattiveria c'è una scena proprio storico una gemia caricato come un sacco si è che questa situazione fu lì di mezzo c'è mostrata che fuori ok se in causa causa di tutti i legati tutti i problemi di natura economica quindi scherze finanze banca rotta debiti c'è una stata raccina che il problema finanza qui vedo sempre adesso mi si rappresenta mi si sono presentate più di una mantide mischiate a questa sorte di formiche mantidi formiche come se fosse colpa un po loro dove confondono la sua vita qual è l'obiettivo alla chiesa e renderlo più più debole più malleabile quindi la debolezza comunque essendo un'emozione le preoccupazioni lo rendono più più malleabile più attaccabile si apre un genio di costo app c'è un po che parte parte scelto dopo però sto ben giocati controllo vanno trasmico mi viene che praticamente per fare questa roba qui che fanno loro a lui che è una cosa che molto invasiva con una deve stare per forza tra virgolette in una condizione mentale non vibrazionalmente alta quindi comunque male proprio stab e mogli si mi roba stazzaropio non usci poi c'è parto stane mentale unico fibrazia mucippi partonisca ok tomo vorrebbe cambiare lavoro giustamente con queste condizioni attuali come cosa vedi c'è lo sto maestriana grazie a al momento quello che mi viene che se non prende consapevolezza dell'esistenza di questo mondo al di fuori di quello che che vede quindi deve prendere consapevolezza se non accade non cambierà trattamente la stata cosa gli stiamo saperne uscire domenica cosa c'è questa mi faccia in nel senso mi viene da dire che come se lui vuole ovviamente avere dei cambiamenti e il fatto di iniziare è stata è un richiamo è un richiamo nel fatto di stare qui oggi di aver iniziato a vedere le tue sessioni e le nostre sessioni proprio la voglia di voler cambiare ma prima deve prendere consapevolezza e pagano tutta ieri c'è stato con la nostra stessa testa che un po tonta attacchietta che fa se fanno i cotusse all'autoviste apposate ma non si è detto fresca e sta sapendo quattro ne uscita domenica analizziamo i rapporti con la moglie la famiglia della moglie quindi la moglie il fratello della moglie e la suocera i rapporti con la moglie non sono buoni e non è simpatico né al fratello né alla madre scena risolvere ragazzi e tommas migliori che sono in là c'è stato noia che fratello son allora mia nicola moglie una ripercussione di un suo una sua inadeguatezza personale dovuta anche a tutte queste queste situazioni che ha di abduction che comunque lo rendono rendono non bene sì che non non si concentra non è concentrato non è oggi non c'è sia come se non c'è sono gli essi che oggi ha proprio la metà giorno che è stata la situata concreta tra migliori scopo prosto mi sconcentro van dobbio mi sta venendo da dire anche che è come se lui avesse proprio delle tipo delle amnesie e poca cosa che mi rossina c'è che non ho capito scusa un chi con la moglie sì codice o zona tac cioè come se ho visto questa scena non so se può ho visto una scena di lui con questa donna è come se si bloccasse si non fosse presente nei suoi confronti io so faccio tanto a conoscere con la scosta un coprieta ma questa non c'è che si sa blocco va bene poco pezzo nato i terrestri ma in quel momento c'è in corso un abduction il tema man c'è corretto oggi vado prof a tania e girano intorno stanno cercando il momento giusto è come se lui davanti scusa non c'è non c'è un po coniagò che per giocare in a poverti moment è come mi viene come se lui avendo questo questa situazione quando è alla moglie davanti è come se si sottolinea la la sua bassa frequenza diciamo così la sua il suo disagio e quindi li girano intorno per aspettare il momento giusto anche in quel caso un po posto il momento che non è stato un giorno la scelta vibrazia io ogni traccata il cronso facolti che fai una termoma chiede ma con questo croccia c'è a loro a loro questa cosa serve questa situazione con la moglie in testato la testa giorno ma queste imbargiano a renka è capitato che non fosse lui che fosse uno dei due cloni a testa sua voce tom ne ha avuto a tom per cota voi come pagnone con un anno il negozio per cloni quando mentre lo dicevi ho visto questa scena che sto vedendo dall'alto e c'è stato un momento dove lui è diventato metà l'ho visto ferro e poi di nuovo umano ho visto questa cosa qui chiede a trisponiamo gli stavamo scorretta costa stava questa volta c'è fuori e fuori che fuori a fuori e qui può smettare la robota ok questa è la moglie perché il fratello è anche la madre della moglie ad l'attacco rovnias bradson e testa fa mi vengono diverse cose allora la prima è perché è come se fosse una ripercussione di un disagio che viene a livello fisico diciamo percepito da loro c'è cosa mi troverà c'è il nostro certo che sta ogni napo c'è un disconfort e poi è come questa altra cosa qui è come se queste questi manti di queste cose mezze formiche mezze mantidi non andassero d'accordo con 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 altre entità che ci hanno invece per loro due quindi la la sua c'era il fratello così andassero in dissonanza dietro che tutto è concrepe classe qua prosto interferenze da una fratagione che marquezone e quindi sono sconti e stemi sa me mi sta tami esiste tami crama tom ok conflitti tra entità va bene prima di non dimenticare non dimentichiamoci chiamiamo il suocero quindi il padre della moglie stata la stessa testa tom ha disincarnato che dopo la scomparsa la sua scomparsa è andato in sogno alla moglie testa nirsaia a posta di spiegarci parte della stagione toma quando l'abbiamo chiamato vedo mi ha fatto vedere subito una scena dentro una casa che percepisco come la casa di tom e vedo un uomo anziano con il bastone un po piegato video stascia come la scena slascom che sta seduto su una sorta di di poltrona e accanto a una donna che percepiscono come se fosse la moglie di top i sceci perché stanno fattendo i robot vita copia e tectaro moti era ma se sto zonata ma è ancora nella sua casa quindi serina dal posto stai da moto matta mi dice sì e adesso sta sbattendo il bastone un mese volevo la tirare l'attenzione l'altimamente terrasso tagliata un lasco non potevo che c'è un po posto c'è mai un vaga l'abbiamo l'ha già tirata diciamo forse facendo venire in mente questa cosa a tom di chiamarlo fa che non ha santo si vabbè basta consapevolezza sicuramente quindi come sempre non siamo noi a fare il lavoro ma solo a dare delle informazioni attraverso stiamo in effettiva con la metà tra i giorni pranzo a me stai città del capota per casa faccia in farmazia quindi lui è attaccato alla terra perché non se ne vuole andare se ne deve andare nel posto in cui vuole andarsene aprendo su un portale staccandosi da tutto quello che terreno ogni spesa pianeta se mi pareva snit stando dai scettato musiche tra portali o due gemi adesso mi guarda però mi sta dicendo dice io però col bastone le scaccio scaccio l'entità allora hanno bisogno di me all'altra spazionando i movimenti a trasta un lasco sacaneata frisca istotte torna tancione in la scia e ogni potenza poi omnia che un disincrenato scaccio dell'entità non è ancora successo non succederà mai vediamo mostragli se è vero tra la gina bello casa per smargo e psa con io ho visto tale la faccia tratta prata diamo un punto in cui le scaccia ora esce da momento che non faccio con io tra istrata vedo lui con sto bastone che è come se trapassa loro però non succede nulla ma lui crede di farlo lui ci provano fa vi gestano attraverso con la scompso se va bene a felotta istotte gli vada riceviamo sa nemo già fatta c'è una cissà con ieri fata con la parte con la sua presenza invece sta generando dei problemi a qualche umano ha fatto che il problema è un coca col che è un figlia o torchi quindi la moglie di tom la sogna come tipo via che via che problema mi indica testa adesso vedo testa testa scato emina cuova di testa un po il cuore mal di testa confusione non riuscire a adesso mi sta avvenendo questa cosa qui è come se non anche lei rimane confusa stanno tutte e due in uno stato confusionali vedo questa cosa che stanno scegna che voglio trovano tomia che sono un po mia scegna come se vedo proprio chi lei per un motivo legato anche al padre lui e tom per quello che abbiamo detto fino adesso sconfuso confuso non presenti non presenti così a me strana e tom spavano sforzate interferenze crema zona spavano tutte coi ciao poi sono stati in spagna un po mia scegna va bene ci sono altri disincarnati in questa storia in questa famiglia certe erogini è stata messa che si natura quando l'abbiamo detto mi è avvenuta una bambina una sorta bambina piccola bionda piccolino che troppo fece avresta poi arriva misce casimava jeff tenka blond enka malenka va bene non non analizziamo le caratteristiche dei disincarnati immagina di fare un cerchio con un compasso punta il centro del compasso al centro della casa di tom e il raggio del compasso sono dieci chilometri non mi piaceva stanta cosa qua ne ha analiso faccio presto piacere sui cerclem o cronk vacu vacu d'omo teco vacu d'omo tommai ma o no però mi è incisciente chilometro lo devo stringere un pochino l'uso posso perché se quando mi ha detto 10 chilometri ho visto credo cose che non c'entrano a loro con loro l'altra casa mossa tantora mentre scateni si scrive a metro sto ovvero va buono ma ci vienze usate con i miei dati a un toma che sono uscita la scasa certo certo ma noi diamo soltanto dell'informazione quindi teniamo il cerchio di diametro di 20 chilometri all'ammetto tra i miei e dei miei informati l'intima problema ogni una fatta in giata servizia la dista chilometro l'esempio lo dà il suocero che adesso si apre un portale si stacca da tutto quello che terreno se ne va a saluta se vuole e se ne va in acqua sforzo da 14 tra i test c'è nico a forza riporta allora vedo si lo fa apre apre a un cerchio questo bastone che diventa un portale la vita tra sacco la scuola ho cron che stato c'era se la stasca supporta e dice adesso adesso non è convinto però non vorrebbe andare a lui fa fatica non interessa vita ragnata quanta psaco nane possa iniettata quanta vota di resta da fastidio alla figlia c'è richiesto staccia c'è uno sprafecci problema autore che non solo a te senza senso alle entità trasparenti e sacanea state una felazione tanto un lasco un disco diciamo che fa difficoltà non vorrebbe andare via però allora adesso sta buttando il bastone ha buttato prima su questo bastone ho cercato un pochino di di dire qualcosa io anche mi è vota con sacco nane struttante robia la fitta c'è terra la società un lasca non c'è stata muvio andone e è andato vicino alla figlia la sta guardando e la sta salutando così che sono uscita tor che passano a neanche una città e mi dice ci vediamo gli dice mi dice gli dice ci vediamo di là i movi e sapaccione c'età che si spacchia da tutto quello che è terreno e vada nel suo portale con il terreno c'è che james che nello sfaico portano ok un dato posso chiudiamo il portale a premano un altro invitiamo la bambina quelli più vicini alla casa di tom e tutti quelli dentro il compasso che ha tracciato un cerchio è stata la stampa metà al porta l'opposso meno ferita mi ha trattato contro che comportano vari città che fanno casta coda muta ma ora signi cancola son obiettivo stanno con una stanza in cerchio c'è un sacco di gente il mostro tecnologica fai piovere della pioggia su tutto questo cerchio e la pioggia sono le informazioni delle sessioni poterà spravo c'è nata o cronx partner test e tenderci savera che informazioni stessi mi sono innalzata dall'alto vedo qualche ombrello aperto come se qualcuno volesse avesse paura e altri invece che si bagnano tranquillamente mi ha salito scatto cuore su questa parte di vita geni che tu resti costa mai un forte parasol che te capisce power trascate che informazioni nata nella stessa pesca lei siamo in formazione no la pioggia va anche dal basso verso l'alto dal pavimento all'alto tutti si devono bagnare tende informazione sacra chi poi non vuole agire sono fatti i suoi ma deve essere informato in formazione è stato scelto anche per ciò poter già watch testico testico sprava alle informazioni mai un posto ok vedo dal dal pavimento sempre dall'alto che esce dell'acqua come delle fontanelle quindi piove e fontanelli vita terra sape pochino spada testa luna scura e snap a ita che strome che poi non puoi fare un taccata che fontanna e contanno di gemi via tutti velocemente dimmi se ne vanno il cento per cento è stata la stessa che poi da un po metri diciamo testo sta portando vedo ancora qualcuno tascia sta cosa sta evita va bene nella sfera energetica di tom sono andati tutti si all'esercizio marghe tecce ma se le poste c'è stata ok benissimo apriamo le danze tutte le entità legate a tom che facciano la propria il proprio ingresso totale se si avevano totale che sta attenzionata un po che hanno sa che sposto per porta ma mantidi mortischi quella mantide barra formiga che mi sembra essere quella un pochino più importante rispetto alle altre e tamoclisca poi vedo delle degli umanoidi mezzi robot mezzi di ferro tipo tipo una sorta che assomigliava al suo cloni il video tasco ma noi dove povera che fatta che il robot ector appominai ogni etate clone toma mi escono ne vedo tanti questa volta mi escono anche tanti un agglomerato di rettili rettiliani dietro vediamo non fa portati e temerà san vitero finisce nel carattere non analizzarli saliamo il capo mi dice che lei questa formica mantide di cui vedevamo prima movimento la sua famiglia modi scompro e nelle mantidi non contano un cazzo quindi voglio il capo subito modi scambi 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 la colla ma arriva l'aquila poi avevo poi arriva poi cosa o di no poi ricadano e poi stavolta dietro di lui dietro accanto a lui vedo un uomo un uomo grande con la barba bianca vecchio lunga capello bianco a terra sopocchi cofizze star tasto compie un brodo misto che mi trovi mi fa mi escire verso vedo l'aquila che si mette sopra il suo braccio di questo qui e trasferite co oro attore shadana ramien o teco start si chiama jack ma naim e lui mi dice sempre io sono zeus sono così mi dice adesso mi vedi che trasmetterà significi va bene fra poco prossime volte gli facciamo anche qualche cosa di divertente vediamo gli impianti di tom che è implante ma per prima scusami ti chiedo gli edl se ce ne sono ai strati e facciamo gli stati certi strani sti ogni volta mi dici quando me lo chiedi vedo che ascono come se si nascondono da si nascondono non si vogliono far vedere ma quando lo chiediamo escono fuori istantaneamente dal suo corpo 2 da caldo era tanto ogni ogni app età proprio che faceva certe momento che la cosa che c'è una tecnica sapato la marchica seco cava verso il suo trasto di stati ciclista ok impianti tutta la semplante i genitali e l'organe pucciava mi fa vedere qui mi fa così vicino al cuore poca storie migliora incontra un po colizia deserta mi sale con la mano mi dice gola con italy jeff cura tanto ma non è poco storia nana kartu testa in cuo fa basta meno alto tutta la mia vita inizia senza corpo emozionale ciao emozia mamma non è non è contento della sua vita non è insoddisfazione tanta insoddisfazione vedo che abbia c'è costo insoddisfazione rabbia di non riuscire a muoversi come se fosse bloccato al punto in cui sta e fosse non avesse comunque la lucidità mentale di riuscire a cambiare di riuscire a trovare una soluzione diversa torni sotto volani a torsci e qualsiasi se trovate il francese sanitaria che usa blocco fan e capo tra cosa avevo messo ad amorto col fix mini paura nostra sì però quello che vedo forte che mi sta facendo vedere è proprio insoddisfazione generale della sua vita del suo stato lavorativo della suo discorso con la famiglia la moglie vorrebbe realtà switch alle tutto ma non riesce non ha i mezzi non aveva i mezzi testa la tecnica prato nei bar di vita tutta il cancio scrittà niente voglio fare dopo dopo me che io c'ero ginna insegna gli a togliersi tutte le emozioni negative tutta la snout coiac sono stati che negate le emozioni questi costrutti artificiali che lui stesso inventa e che quindi lui stesso può gestire una constructa ions ha muciato tra i limiti la santa messe di leva come se escono da da lui vedo lui che si leva ad un tipo dei mini robottini tipo mini robot piccoli così che sono tutte le cose che che non vuole che vuole elevarsi quindi emozioni di vita tra ste mozzi è che facciata sempre facciamo casse vieta si frutta che come al malenco robot of tac cosa di metteremo sia come se fossero artificiali mi sta dicendo è tutto finto non è artificiale è artificiale perché il pet emozia come tecnica prato sto c'è un anistotaini estrellana fresca stato fatto io sì ok vedi che può riempirsi di tutte le emozioni positive che gli vengono in mente tutta la spaventiamo la mostra scena per uscire che mi possa tenere mi emoziami anche allora sta buttando dentro un buco tutti questi bimini robottini li sta buttando tutti fette trasatato a giornata fresche male anche robot e adesso vedo che sta fa così con il dito fa tutti dei cerchietti tutti dei pallini che vedo bianchi come se per lui rappresentassero le nuove la sua nuova condizione emotiva e trasvita e aggressori appalza in tac o cranky lì sono cranky una terra serpa santo non per te apposate le mozze che la trascita trovasse mi dice così starò meglio questo è più bello i movimenti test band e tu sia lei che è rimasto pesante mi sentivo più pesante adesso si sentirà ancora più leggero perché si toglie da solo tutti gli impianti e li butta in un portale definitivo e ci butta tutte le entità a terra sport e 6 a scala sai poterla sposa che in plant c'è da oggi ore ora su cero che è stato compresi i due dl i guadoni e tutte le provette ok prende tutto diventa tutto piccolo tutto quello che abbiamo detto quindi cloni provette diventa tutto piccolo 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 lo prende e butta tutto via via rata frascata femmini west come se una volta che lui lo prende con la mano si rimpiccoliscono quindi entità provette tutto la carta meravigliata cosa è piaciata otto re anch'io toshia svegliata tristate tra buschi fatto io strappiuto ok a quanto sta vibrando adesso tom via cari strassi prezziato ma milione 750 mila milioni c'è danza al pinge 100 miliardo 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 50 mila scusami milioni ok che rapporto c'è tra la ps e la pia è troppo vagamenta d'ursa a ciamata raccina piazze miliane poco 43 per gestire saprò tanto la tuscia chiamiamola prima di chiederle che cosa ci vuole lasciare come messaggio e per quale motivo sta a 43 per cento vediamo se le 2200 vite sono sempre tali cosa non sapete a me ma che c'è l'attacco che è stata costruita di sito pro tent cosa vuoi chiedere se le 2200 vite sono c'è nata al posto stai a trattare cento di rischio giusto che può passare vedo una cosa strana è come sei i numeri se vedo i numeri che continuano a cambiare in continuo aumentano e diminuiscono e mi arriva tanto questa cosa dipende dalla da quello che farà con le sue nuove consapevolezze che accresceranno andando avanti nel suo percorso la vita da turco fortunato diciamo di buona famiglia esiste ancora accettato certe torsi a cattano copa che sta per erogine natalist se la vedo ecco le in spagna a che spani vedo come se si fossero dimezzate quelle in spagna qualcosa andato via non c'è più finita che si è finiscono a tali parte cosa che spagna ok chiediamo di lasciare un messaggio a chiedere ma la ps di tom di lasciare un messaggio relativamente a tutto specialmente a questa insoddisfazione della vita il lavoro l'andare a vivere altrove o lavorare altrove come in spagna e c'è stata razza per time ad us a toma è una chiesta che c'è accanto per la tom c'è scattato che cosa trovarsi sapato per essere trovate finanzata io ho vento anni che ci vista dottore come ho avuto c'è io mentre dita parlava e lui mi stava dicendo e lei mi sta dicendo non scappare mi dice sta frase mentre c'è io ho detto lui ha detto lui la ps alla ps scusa ok d'uscia pove già arte moment c'è il porto mattina e gli ucce cai non scappare dal posto in cui vive ci rimangiamo c'è cazzini star con la misura di copertina andare in spagna ma scegno testa che spagna mi sta dicendo che in realtà è come se lei dice non scappare affronta le le cose prima sistema perché tanto pure se va in spagna te le riporti lì movimenti e un cieca e mucire sta veicciato a totale schermo boh gli scrivo da scena da che spagna e per la strada osana situate tutto questo cosa piaccia stampa ok che messaggio vuole lasciare in generale al di là di questa vita specifica di tom ci sono 2.200 giochi e avventure ma che sta vivendo quale messaggio vuole lasciare a tom aia che generali a compiato ma c'è che c'è casa stavich tomo ritorno strata senza tristezze continua a dire non scappare di essere più presente apri gli occhi tocca di tocca di tocca di tocca di tocca dice le risposte se l'hai davanti ma tu ti tappi gli occhi muovi o profeti ma spazzavano a letto attesa crevasse sta piaccia ad esempio moglie sa quale che c'è la zona non la vedi mi dice la vedi poco andiamo finito su zone al profitto è sempre via come perché è sempre via poi ne faceste mio pezzo ma lei mi dice più una cosa non fisica anche anche quando è presente come sempre come se non vedo sta sorta di non presenza di non coscienza quindi lei dice ora sei più sei più libero sei più consapevole prenderai più consapevolezza adesso apri gli occhi utilizza le tue nuove potenzialità senti che ci sei che sei tu che sei qua mi ricordo che si tracca o prate accoglietà giotto che credi che sto per senta capata fisica il barcino pezzo ne va proprio sto sfruttando una foscata mostri anche per a se ho forse fai e potenziale pancia pezzo come se mi dice adesso sei sveglio finalmente sei sveglio ora rendi tene conto e agisci a in delle nuove consapevolezze nuove nuove conoscenze ci sei terra sconso terra torscia bugio estera se cosa è una musica domos ok siamo sempre a 43 per cento di ps giornata risposta resistenza però tanto obatisci ed ossa 52 adesso dice il trasmaggia che spinge santo tra prota vuole aggiungere qualcosa o vuole aggiungere qualcosa la piere perché c'è la peta gesta data siamo facciamo mettere facciamo per testata ci mi dice sempre toccati 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 saluta smogliette il cato da te carisce per trovisci a tutte case così vi rendi conto che ci sei trans posso prendere sapere stavamo sprava per uscire automata cosa non c'è la testa poi dice prendendo consapevolezza di te che e poi di quello che ha intorno a te allora potrei cambiarlo poter cogen che bando sam scadò mai benton scadò un tè cozza jace un poco c'è il piatto c'è la tata state davvero band smoglietta come va ok basta tutta la impianti entità cloni esperimenti tutto assente io svolto un momento altro scritto implanto fisto experimento questo momento sì stai ferita ok invitiamo tom ad alzare le sue frequenze poter aspettare ad occuparsi del posto in cui vive e di pulirlo diciamo in eterico da solo a betta la sua gestione appassimentare c'hanno fama ministra fattore musea chiediamogli di passare le informazioni a tutti quelli a cui vuole passare per esempio la moglie il fratello della moglie la madre della moglie tutta la sua prossima casa in farmazia che è ancora in casa che la sua quattro giorni e bratta brato zone testa vai e lo salutiamo i posti a crime stanno facendo tutte dimostrate le ciliegie dimostrate le ciliegie all'interno del quale si sono tutte le informazioni le nuove consapevolezze e le distribuisce alle persone che desidera lui a cosa che mi interessa c'era è una semplice che in farmazia quello che è una semplice di rosa ok ora sabrina disconnetti da lui la terra sabrina rosa prima di tornare pulisci il posto in cui vive dita guarda se ci sono dei residui per lei intorno lei fai lo stesso con me e con te e dimmi quando sei pronta